Piper, rilassati. Abbiamo una vita normale ora davanti di noi? Non ci sono più le grandi minacce. Morditi la lingua. Noi crediamo che il mondo sotterraneo si stia ricongiungendo per rielettere un nuovo capo demoniaco. E allora? Lo sapevamo che prima o poi lo avrebbero eletto. Lo fanno sempre. Già, ma questa volta non sappiamo di che potere si tratti. È una cosa troppo grande, anche più grande di tutti noi. Ho come la sensazione che un po' accoglie la sensazione. Già, non ho molto tempo. Sono qui per avvertirle che la nuova minaccia è stata per combattere e la sua gente. Dovete stare molto attenti e lavorare con un bene nel campo perché è quasi come il sole. Vogliono tenere entrambi la stessa cosa. Un anziano è qui. Ma non ne sapevo niente. Ma che cosa vogliono? No, no, no. Questa è la mia vittoria. È la vostra fine. No, no, no. No, no, no. Ah!